Contro tutto il male che l'inferno può evocare, tutta la crudeltà che l'umanità può produrre, abbiamo deciso che manderemo soltanto te. Falli a pezzi finché non sarà finita. Non riusciamo a fermarli! Ritirata, ora! Sono dappertutto! Trasmesso da H1556. Si contano miliardi di vittime ormai. Preghiamo adesso, fratelli. Pregate che sia vegliando. Vi prego, mi sentite? Se qualcuno mi riceve, se c'è qualcuno là... Pento di acquisire il segnale del sacerdote. All'incirca il 60% del pianeta è stato consumato dagli invasori. Il segnale del sacerdote è agganciato. Indico il bersaglio. Ma il segnale non reggerà a lui. Perché è lui quello che temono, non l'uomo. O i suoi eserciti. Essi temono il marchio della bestia. ... ... Qualcuno! Aiuto, aiuto, aiuto! Mi prego, mi prego, aiuto! Localizzato il segnale del sacerdote. Lo indico su visore. Unico di suporia. Figurati le soldi. E' vasto una cuore! Qui esce la servita? Si es que era un bioconcente con un rival de un pari duro! Grazie a tutti. 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 Non puoi. Consunzione demoniaca terrestre scesa del 36,8%. Rilevo altri due sacerdoti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Il consiglio dei sacerdoti infernali è sopra la tua posizione. Le scansioni indicano un ascensore al centro della struttura. Grazie a tutti. 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 Non puoi uccidere i sacerdoti. Conosci le nostre leggi. Nonostante i loro peccati contro l'alleanza, appartengono comunque alle sentinelli. Ciò con cui interferisci è più grande di quanto tu possa immaginare. Così è scritto. Per loro è giunto il tempo della penitenza. Se continuerai così, attirerai su di te l'ira dei cieli. Sei solo un uomo. Ormai non puoi più fare nulla per poterli salvare. Oggi non puoi più fare nulla per poterli salvare. Ma non puoi più fare nulla per poterli salvare. Non puoi più fare nulla per poterli salvare. Non puoi più fare nulla per poterli salvare. Questa è avversa. Ma non puoi più fare nulla per poterli salvare. Non puoi più fare nulla per poterli salvare. Vediamo futuro. Questa è avversa. Grazie a tutti. 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 Un nucleo delle sentinelle è vicino. Puoi usarlo per attivare il mech e aprirti un passaggio. No? 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 No?